Davido Calecchia e benvenuto a Cremona. Con quale spirito inizi questa tua nuova avventura in grigio rosso? Diciamo che ho tante voglia. Non vedo l'ora anche di andare a battagliare con questa maglietta che mi sta anche troppo bene, con il colore e anche tutto. Poi ho finito l'anno scorso con un rimpianto che devo ripagare ai tifosi. Ho avuto tante fiducia dal mister e dal direttore sportivo di portarmi qua e non vedo l'ora di pagare la loro fiducia. Senti Davido, che campionato è il campionato di Serie A? Posso dire con quello che ho vissuto l'anno scorso che è difficile. Ti chiede tanta voglia e tanto sacrificio. Poi devi stare sempre concentrato senza mollare niente. Non devi mai abbassare la voglia di lavorare. Penso che lavorando dura e con la testa giusta possiamo fare qualcosa di bello. Un saluto ai tuoi nuovi tifosi. Ciao, sono Davido Chereche. Vi saluto da qua e non vedo l'ora di trovarti a Lusini. Forza Cremo! Grazie. Grazie.